Ciao Cinzia, il car tablet per la tua Peugeot 208 o 2008 che sia è arrivato perché il prodotto è per entrambe le macchine parliamo di un 10 pollici di altissima qualità, Android 10, 4 giga di RAM, ROM 64 giga, Apple CarPlay Wi-Fi, Android Auto e poi adesso entriamo nel dettaglio partiamo dalla radio, ovviamente adesso non abbiamo collegata, quindi avrai stazioni in memoria, recupero comandi al volante queste sono tutte le stazioni in memoria, hai 24 stazioni memorizzabili, 30 stazioni memorizzabili, dalla 1 alla 30 questa è la home poi partiamo dalla gestione audio e video tramite le USB, adesso stiamo vedendo un video potrai accedere ai contenuti, facendo così compariranno tutti i contenuti della USB mentre se vuoi creare varie cartelle, basterà premere questo tasto qua e ti compariranno tutte le cartelle stessa cosa per quanto riguarda la gestione audio qui avrai tutti i contenuti e poi qui vai alla gestione cartelle abbiamo un DSP dove in automatico ti potrà gestire tutto il sound oppure lo potrai andare a personalizzare te ovviamente tutti i tasti laterali qui, adesso non so se li vedrai bene, uno perché c'è la pellicola protettiva due, quando accenderai le luci la sera o avrai l'accensione in automatico si accenderà tutta questa parte qua della gestione tasti e poi affrontiamo il discorso Android viale palmiro togliatti 600 come vedete possiamo fare la gestione vocale qui stiamo vedendo in funzione il processore con la grafica risoluzione video eccezionale posizione real time qui stiamo su YouTube potrai attivare anche lo split screen cioè dividere il display in due parti due app adesso c'è la pellicola protettiva che dà un pochino fastidio ecco qui e infine avrai tutte le impostazioni controllo del car tablet che a secondo degli option della macchina potrai andare a gestire eccole qua tergigistallo, parcheggio, luci diurne insomma questi sono tutti i setup di controllo infine avrai la sezione Apple CarPlay Android Auto dove una volta configurato potrai gestire sia il tuo telefono Apple oppure Android Auto eccolo qua ti ringrazio ringrazio tutti i nostri ascoltatori tutti i spettatori dei social i nostri prodotti sono disponibili su shoppagliurit.it a tutti i nostri prodotti sono disponibili su